Cinque anni fa in Abruzzo la valanga che travolse un hotel dopo una scossa di terremoto morirono 29 persone a Farindola, familiari delle vittime e soccorritori. In diretta ce ne parla l'inviata Roberta Ferrari. Cominceranno alle 15 le celebrazioni per ricordare le vittime di Rigopiano. Ci sarà una messa, la fiaccolata, poi la deposizione di 29 rose bianche tra le macerie dell'hotel. Qui stanno arrivando i sopravvissuti e i familiari di chi non ce l'ha fatta. Noi questa mattina abbiamo incontrato l'uomo che cinque anni fa ha fatto da pripista ai soccorritori. Vediamo. Sapevo che dentro l'hotel, oltre all'amministratore Roberto, Emanuele e gli altri ragazzi, Marinella, che conoscevo, sapevo che c'erano anche degli amici del mio paese. Ho preso lo zaino, ho preso gli sci, gli scarponi, ho detto io devo andare su a tutti i costi. Fabio conosce bene le sue montagne, si mette subito in marcia la sera del 18 gennaio 2017 quando capisce che una valanga ha seppellito l'hotel di Rigopiano. Nessuno è ancora in grado di raggiungere quei luoghi, è lui a fare da apripista le squadre di finanza e soccorso alpino. C'erano anche, penso, quattro metri di neve. Ricordo che già da queste parti si incominciava a vedere tutti i resti della valanga. Gli scia ai piedi, quattro ore di cammino spalando muri di neve, poi l'immagine della devastazione. Siamo arrivati verso le quattro, quattro e mezza della mattina. Si vedeva soltanto le luci della sala macchine, dal monte dell'hotel, i fari di una macchina che provenivano dal parcheggio dell'hotel. Ho visto il tetto della parte dell'hotel con un albero conficcato proprio sul tetto e proprio completamente spostato rispetto a come lo ricordavo e non si vedeva più nulla. I soccorritori scavano per giorni. Delle 40 persone nell'hotel saranno solo 11, sopravvissuti 29 le vittime. Oggi Rigopiano è una distesa di silenzio e neve. Ho pensato che non potesse accadere in natura una cosa del genere. Norvelli